Passo la parola a Michele Camisasca, direttore generale di Arpa Lombardia. Sul comunicato stampa che hanno diffuso gli organizzatori di questo evento si parla di leggi regionali fuorvianti in Lombardia e in altre regioni del nord Italia. Di che cosa avrebbero bisogno, a suo avviso, anche a livello di policy e di governance, gli organismi regionali da parte dell'Italia e dell'Europa per riuscire a far meglio il proprio lavoro di impostazione di politiche? Questo? Eccolo. Grazie. Naturalmente in questi pochi minuti non ho nessuna intenzione di entrare nel merito di un tema di commento di legislazioni regionali, anche perché poi ci sarà una sessione naturalmente nel pomeriggio. Però volevo portare un po' sulla falsariga di quanto inizialmente detto questa mattina, il contributo di come le agenzie regionali e in generale anche gli enti regionali, secondo le loro diverse competenze, devono svolgere un ruolo propositivo in questo senso. Tutti i soggetti che incidono e che costituiscono i sistemi istituzionali hanno delle responsabilità di contribuire in modo omogeneo alla conoscenza, anzitutto. Credo che anche dalla presentazione dei tre rapporti si sia evidenziato come non è sufficiente un livello di conoscenza macro, ma per arrivare a delle decisioni e essere di supporto poi ai decision makers bisogna portare delle informazioni puntuali, delle informazioni dettagliate che consentano anche a chi poi ha le responsabilità di attuare le leggi regionali e di svolgere la pianificazione. Allora, il livello del sistema nazionale della protezione dell'ambiente tramite le agenzie regionali vuole dare un contributo anzitutto di questo tipo, di conoscenza e di conoscenza puntuale, anche in relazione alla tematica del consumo di suolo. Il tema della complessità delle competenze e della diversificazione è una delle questioni istituzionali che bisogna risolvere. E su cui non solo i legislatori regionali, ma anche i legislatori nazionali, ha provato a dare un contributo anche con la legge 132 del sistema nazionale. Perché, come ecceggiato anche questa mattina, quando si pensa a livelli essenziali di prestazione, si deve pensare al fatto che le informazioni dal punto di vista tecnico-scientifico che un'agenzia per l'ambiente può dare in Lombardia sono le stesse che deve poter dare anche in Puglia, dove abbiamo visto che è necessario avere lo stesso livello e poter parlare con gli stessi modelli. Allora, come? Su questo vorrei portare rapidamente l'esperienza di ARPA Lombardia come contributo di fattivo. In Regione Lombardia, in realtà, proprio in questo senso, dal punto di vista della diversificazione delle competenze, la Regione ha voluto dare a un altro degli enti del sistema regionale un po' una leadership nella materia del suolo ed è l'ente regionale per lo sviluppo agricolo e forestale, di cui peraltro nel pomeriggio si darà una testimonianza anche del lavoro sinergico. Quindi il primo tema è far lavorare insieme enti e agenzie che fanno parte di uno stesso ecosistema istituzionale, ognuno per la propria parte. Certo, appunto, come dicevo, in Lombardia una parte preponderante delle competenze sia sotto l'aspetto pedologico che territoriale stanno su ERSAF, però ERSAF è un ente come ARPA che deve aiutare a leggere il contesto e, in particolare, noi ci siamo posti dal punto di vista dell'Agenzia per l'Ambiente il tema di come contribuire anche a far crescere gli strumenti già noti, a come implementarli, a come renderli vivi, perché la questione poi, soprattutto in materia di suolo, è come avere le informazioni sempre più aggiornate. ERSAF, penso lo racconteranno nel pomeriggio, da tempo, addirittura dal 2001, cura una cartografia denominata DUSAF che, tra l'altro, è stata aggiornata e ha recuperato dati che addirittura risalgono al 1955 e però il rischio è sempre quello di non essere aggiornati. Allora, come ARPA Lombardia, noi abbiamo voluto far crescere, far nascere un laboratorio di tele rilevamento che provi a integrare tutte le migliori tecnologie e ci siamo specializzati nell'osservazione terrestre, non solo satellitare, oggi anche con la tecnologia dei droni, le abbiamo acquistati, li mettiamo a disposizione come conoscenza proprio per integrare e per aggiornare queste informazioni e credo che questo sia un buon modello, una buona esperienza, cioè parlare molto tra istituzioni locali, mettere insieme le conoscenze e fare in modo che venga messa a disposizione un'informazione sempre più aggiornata perché è del tutto evidente che anche la mole di informazioni strettamente ambientali che sono a disposizione di ARPA della Lombardia tramite tutta l'attività che si svolge come monitoraggio altrettanto possono essere utili per la conoscenza del sviluppo o ahimè del consumo del suolo e mi riferisco ai monitoraggi dei ghiacciai, ai monitoraggi delle falde, della neve e non solo ma anche a tutte le attività di monitoraggio delle grandi opere che spettano all'Agenzia dell'Ambiente nonché sulle tematiche delle coperture in cemento amianto. Dico un'altra esperienza fatta in questo senso che abbiamo proposto a Regione in accordo con altri enti è stato proprio un progetto che abbiamo voluto definire suoli ma che evoca un po' ovviamente la problematica di oggi e che si dedica in particolar modo alla vicenda delle aree industriali dismesse. ci siamo resi conto che non bastano i consueti censimenti per sapere com'è la situazione o per anticipare la conoscenza di quelle che possono essere aree assolutamente abbandonate o quasi abbandonate. Allora ci siamo resi conto che occorreva mettere assieme ancora una volta informazioni diverse non solo l'osservazione della terra tramite gli strumenti che poco fa citavo ma anche i database legati ai siti contaminati, informazioni che stanno presso le Agenzie per l'Ambiente ma ancora i consumi energetici o anche la diminuzione dei consumi energetici proprio per far capire dove sono le situazioni potenzialmente in fase di dismissione perché questa conoscenza consente anche di evitare nuovi consumi. Su questo abbiamo avuto una prima esperienza proprio nell'area del Alto Milanese dove ci sono 22 comuni del Nord Ovest sui quali stiamo approfondendo un modello di conoscenza proprio legato a questi aspetti e questo è insomma anche il contributo che credo possa essere esportato come modello anche in tutto il sistema della protezione dell'ambiente. Grazie. La ringrazio e ovviamente le chiedeva appunto l'apporto che un'istituzione regionale può dare nella pianificazione non tanto appunto un commento sulla legge quanto appunto questa riflessione però aiuta a comprendere come su scala nazionale e su scala locale si sta arrivando a una tale definizione dei dati e dei possibili strumenti da utilizzare nella pianificazione che probabilmente poi non legiferare in quella direzione diventa o evidenzia un problema.